24 kg, pedana 4, Bagnoli Stefano strappo 24 kg, pedana 5, Bagnoli Massimo strappo 16 kg e pedana 6, Bettinicchio Michele strappo 16 kg Giudici pronti? Pedana 4, Bagnoli Stefano Questa è la batteria numero 18 Ok, pronti? 3, 2, 1, start! Partiti, questa dieciottesima batteria sono prevista e 21 Siamo arrivati, vai Sartelli Un palazzo Attra d'antico Setto Setto Poi il averages Setto Pucci controlli Tour petit Pettana 2, Marinco Davide, anche lui serie A, 32 kg, Pettana 4, Gabbaglieri Alex, Pettana Marco, 24 kg, strappo serie B, Pettana 4, Bagnoli Stefano, strappo 24 kg, per lui anche, Pettana 5, Paglioppo Massimo, strappo 16 kg, Pettana 6, Gabbaglieri, 16 kg, strappo per lui, ho il 60 tra le altre cose, quindi un grosso applauso per lui, perché questo è lo sport che come vedete oggi vanno dai 12-13 anni fino a 60 e passa, in Russia non è andato a trovare persone anche da 70 anni, donne anche, che fanno gare, è lo sport tecnico, lo sport popolare è lì, quindi non è lo sport solo per determinate persone, basta solo una cosa, la voglia di allenarsi. siamo al secondo minuto di gara vai Miki esercizio di strappo è un movimento unico intorno alla testa, il kettlebell come dice il maestro di liga deve volare, non fa strappo di forza, ma fa sospito con una spilla oscillatoria, un movimento semi circolare di sotto alla testa, il punto tecnico a carico del stretto inferiore, per poi andare a fare la parte di incappo in alto, che è lo stretto tecnico fondamentale per la buon'ubicità del gesto, per durare 10 minuti e fare più ripetizioni possibili. La tecnica sciatta, grezza, porta solamente a affaticamento, quindi prematura abbandono della gara, risultati scadenti e in ultimo infortunio, strappo proprio, strappo nel senso fisico. musica 3 minuti 3 minuti 5 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 minuti 6 minuti 6 minuti 6 minuti 6 minuti 6 minuti il maestro di Liga ha 63 ripetizioni in questo momento dopo soli 3 minuti e 40 date la tecnica, cioè nel senso, tutti possono sollevare kettlebell, però chi è maestro è maestro quindi l'alberino su piedi, è piatto, ogni ripetizione, mi pare, la prima cosa riprende, la tenuta fisica, ma sono le minuti neanche l'escensione a visita cambia, poi ripeto, dovrebbe essere anche una gara testa, per cui ovviamente vale un campionato agnano, allora, siamo di rappresentanza, stessimo sempre a tutti gli eventi, e questo è Gianni Cassieri, un gran valore dell'aspetto umano dell'atleta, per questo è qui, con tutti i pensieri organizzativi che non chiamano e chi magari non lo sa, la nuova volta, anche se ho trovato una gara a 12 ore, mi sento bene, ma non scherzo, 45 non è 5 minuti, da cazzo stiamo a batteria numero 18 il totale sono 21 Sessanta, quattro sei, novanta quattro, novanta cinque, novanta sei. Vediamo che il campionato italiano professionistico della Serie A si hanno fatto con 32 milioni. Quattro sei, non andare dietro la tua. Comunque sia, le tante manifestazioni richiedono qua. Ho fatto una Serie Pro e Serie A. Cento strassi per il mestre in Liga. Sei minuti, Ole. Quattro minuti alla fine. Cento due. Un applauso. Ha visto che ci sono arrivati. Teniamo duro. Quattro. Cento sei. Cento sei. Cento sei. Vai Davide. Cento otto. Sei e mezzo. Cento nove. Cento dieci. Maiole. Cento undici. Prova. Un applauso per lui. Terminata per Mareco Davide. Se dare vicino al mestre in Liga è un onore. Noi vediamo. Però diamo merito. Cioè, 72 stratti. Prova per tutti. Sette minuti, cento sedici. Tre minuti alla fine. Salve... Sette. 119. 120. 1221. 122. 123. 124! Stiamo entrando nel momento della gara in cui veramente le valori sono casi terminate. e poi la tecnica inizia da ordinaria e fa avanti solamente la determinazione e l'amorella. Come si dice a Kermi è tutta figlia. Due minuti alla fine. Un minuto e mezzo alla fine. Forza ragazzi. Questa determinazione con cui sta portando a fermi la sua gara. Un minuto alla fine. Gara di finale per il piano 4 per il Pagnole Stefano. 109 strappi per lui. 160, 50 secondi. 45 secondi alla fine. 45 secondi alla fine. 45 secondi alla fine. 45 secondi alla fine. Ultimi 30 secondi. Fuori tutto. 48, 49, 70, 25 secondi. 15 secondi alla fine. Sostegno a questi ragazzi. 15 secondi alla fine. La fine. La fine. 180 ripetizioni di strasso. 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Grandi. 179 strappi per l'anno 1 per la nostra Liga.